bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di brawler stars e oggi ho trovato jackie due minuti fa e l'altro ieri ho trovato bea e jackie infatti è molto forte super raro l'ho visto io l'avrei fatto ecco è troppo forte a e ora 30 brawler ok ci prendiamo questi power sperando che wifi non mi va mia mi lagga non vedo niente ovviamente vai morto eh vabbè non vedo niente quindi credo proprio che muoio e vabbè sì sono morto perché non mi va wifi prova ad aprire la porta per vedere se mi va tanto più sei già a grado 4 mi apro una bella cassetta prima di andare al centro di nuovo fammi ricaricare altri ok grazie ecco perché io sempre robot perché loro lo fanno apposta a crearlo proprio giù nelle casse ok 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 sorry scusa vai e ancora sorry scusa è un'altra volta la c'era un power ma vabbè credo che non credo che non eh visto sei andato via fuori safe fuori safe sei andato già credo 5 buono ok infatti qua ora mi va molto meglio la connessione facciamo altre tre vittorie e e arriviamo spero come non detto spero provo a far così cosa pure è il mio brawler preferito ah eppure ho trovato il gadget di e ora mi va meno l'internet meglio di prima però madonna se ne sono andati gli hebrew cosa c'è è la cosa mamma avete visto com'è morta non vedo eh vabbè no non vedo è morto terzo eccomi è tornato ok ok che verso che fa ok vabbè vabbè sempre mi va il robot e vabbè ma sempre mai il robot non è giusto secondo me meno uno ora io aspetto un po' prima di andare al centro ok ora provo ad andare ora ok non è andato a me quindi vuol dire che ce n'era uno più vicino e da me è morto non è andato 12 power suzo ucciso il motor cosa attacca 3000 contro ucciso contro suzo calciatore calciatore oggetti ok 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 no no a tu volare lo tengo scendi dobbiamo si cambia il gioco L'ho uccisa Per averla avvicinata Ora in teoria mi dovrebbe avvicinare Ma io mi allontano È possibile Lo sapevo Lo sapevo Vai Vieni Lo sapevo Me ne dovevo allontanare Non fa niente però Guardate per uno di esperienza Arrivavo a 90 di esperienza Più 7 93 Dovevo fare altri più 7 Va bene terzo Posso vincere anche Più cappi in più così È Molto meglio C'è un livello 2 Mi ha ucciso Ok Riproviamo Ora 9 coppe Nell'altro meno 2 Aspettate che mi ricarico Ora me lo prendo io per il robot Mi scappo 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 Ma lo prendo sempre io Aspettate Me ne sto scappando più che posso Ce l'ho sempre io No C'è la bull Ottimo Ottimo No Per poco Mi sono sfuggito Ma non vedete che al centro ci sono delle ombre Lo sapevo che morivo di sempre Sono andato una volta di esperienza Vabbè Questo è tutto E noi ci vediamo in un prossimo Un ovissimo video Ciao ciao